Tappa comasca per la deputata del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, oggi nel capoluogo allo Yacht Club per portare il suo sostegno a Fabio Aleotti in corsa per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. I pentastellati si propongono come costruttori di pace contro le guerre in corso e si scagliano contro quella che definiscono l'austerità del governo Meloni. Tra i temi centrali a livello europeo, con ricadute sui territori, la corsa per l'investimento dei fondi PNRR. PNRR è un'occasione unica di rilancio del paese, il presidente Conte ha lottato dopo la pandemia per far ripartire l'Italia e purtroppo la presidente Meloni sta perdendo tempo e sta tagliando, ha già tolto risorse, anche ad esempio la sanità. Non possiamo permetterci di non spendere tutte quelle risorse, parliamo di nidi, parliamo di scuole, parliamo di periferie e quindi non solo bisogna mettere a terra quelli, ma ad esempio anche per tutto quello che riguarda la transizione ecologica, quello che riguarda le persone in difficoltà, l'Europa deve farsi carico e deve avere politiche espansive. Purtroppo col governo Meloni siamo tornati al governo Monti, quindi tagli e questo non è accettabile. Quali stanze del territorio vorrete portare in Europa? Allora, del territorio sicuramente in Europa bisogna fare, un po' poi per tutti i territori, sicuramente aumentare quello che è il budget del Parlamento europeo. Noi abbiamo un'Europa che utilizza un 1% del PIL europeo, quindi sono davvero percentuali bassissime per pensare che l'Europa possa intervenire effettivamente su quelle che sono le politiche e le problematiche sociali, ma anche della nuova generazione, anche di quello che riguarda tutto il green deal europeo e quindi anche le riqualificazioni energetiche degli edifici e di altre attività.